Il Bob è il taglio dell'anno e tu ancora non ne hai fatto uno. Sei ancora in tempo, visto che esploderà questo autunno 2024. Io poi amo i Bob e tra le mie linee di taglio preferite. In questo caso avevamo optato per una lunghezza e al termine del taglio, dopo l'asciugatura, ha deciso di accorciarli ulteriormente. Le ho creato un perimetro pieno e una scalatura nella zona superiore con i giuffetti. Questo Bob è bellissimo con l'effetto bagnato e anche spettinato. In questo caso le ho effettuato una piega liscia, morbida, per personalizzare e definire la linea di taglio. Questo è il primo risultato con maggiore lunghezza. E questo invece è il risultato dopo aver accorciato ulteriormente. Direi fantastico in entrambi i casi. Ciao!